Parliamo di convenienza, con deposito titoli BPV ai tre anni di bollo pagato senza limiti di importo sui titoli trasferiti, Banca Popolare di Vicenza. A Via Vicenza Oro, settembre 2016, lanciata la fusione con Rimini, sarà il più grande polo fioristico italiano, annuncia Marzotto, fatturato da 120 milioni di euro e poi quotazione in borsa. Stupore e incredulità, Belvedere di Tezze per l'arresto dell'insegnante di musica, accusato di molestie sessuali ai suoi studenti. Carenza di organico, età media elevata, la polizia locale così non può garantire la sicurezza in città, denuncia l'opposizione. Vigili del fuoco partiti da Vicenza sono all'opera nei luoghi del terremoto, recuperano gli oggetti dalle case distrutte, le opere d'arte da chiese e musei. Cartelli, lettere personalizzate, volantini sui parabrezza, articoli tv e giornali, tutto inutile, le auto non si spostano nemmeno per far lavare le strade. Forza nuova attacca uno striscione all'ingresso della sede del CGL, il segretario Zanni, vila intimidazione, la DIGOS pronta a riferire in procura. Lavori di adeguamento sismico terminati per l'inizio della scuola, accade all'elementare di Trissino ma anche al palazzetto di Montecchio precalcino. L'allenatore del Vicenza è soddisfatto della campagna acquisti, subito in campo, Zaccardo è esposito, l'esodo di un migliaio di tifosi verso Ferrara, segnale estremamente positivo. Ben ritrovati, buona serata, dunque Vicenza torna a essere capitale dell'oreficeria da quest'anno anche della orologeria. Intanto c'è l'accordo con Rimini, Marzotto dice si crea il più grande polo fieristico italiano con un fatturato da 120 milioni di euro. Fra poco la quotazione in borsa. 1.300 espositori da 35 paesi esteri e dai distretti orafi italiani. Vicenza Oro, settembre 2016, salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria, apre quest'anno anche agli orologi, pronti a scandire il tempo di una nuova strategia, la fusione di Fiera Vicenza con Rimini. Un momento storico, sarebbe la prima volta che avviene una fusione di questo tipo tra due soggetti fieristici in ottima salute che metterebbero insieme in sinergia una capacità gestionale molto buona, una redettività molto buona, delle risorse importanti e poco debito. Adesso la palla è agli azionisti. Potrà significare, se si realizzerà, il fatto di creare una società più grande, più forte, più ricca, più stabile, ancora più internazionalizzata che potrà garantire a Vicenza un futuro ancora più importante. Quale sarebbe la dimensione del fatturato? Intorno ai 220 milioni di euro e con una importante patrimonializzazione. E se la domanda dell'oro è calata a causa delle turbulenze nei mercati di India e Cina, gli investimenti in Fiera Vicenza sono cresciuti del 14%, condizione favorevole per il duplice obiettivo, fondere e quotare. Noi questa società vorremmo quotarla in tempi ragionevolmente brevi e questo potrebbe evidentemente significare un valore aggiunto per i due territori molto rilevanti. L'usso e gioielli non si fermano alla Fiera di Vicenza, invadono anche il centro cittadino. C'è una mostra al Museo del gioiello dedicata al viaggio. I cinque giorni di Vicenza-Oro-September nel quartiere fieristico hanno una preziosa appendice nel cuore della città. Al Museo del gioiello in Basilica Palladiana è infatti allestita la mostra curata da Alba Cappellieri, il gioiello e il viaggio. Una metafora tradotta in creazioni di alta gioielleria dei viaggi per terra e per mare e di quelli simbolici della mente e dell'anima. La vernice dell'esposizione ieri sera immostra opere realizzate da importanti aziende orafe italiane a partire dai progetti di giovani designer internazionali, finalisti del concorso Next Generation Jewelry Talent, promosso da Fiera di Vicenza con la Scuola di Design del Politecnico di Milano. Un esempio virtuoso di sinergia tra il mondo della produzione e la creatività dei giovani talenti, provenienti dalle più prestigiose scuole internazionali, Parigi, New York, Pforza in Germania, Eindhoven in Olanda, Detroit, Hong Kong e Ginevra. E siamo alla cronaca. Un motociclista di 44 anni di tezza sul Brent è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sant'Orso a seguito di un incidente che si è verificato poco prima delle 18 lungo la provinciale 349 del costo di Asiago, secondo quello che è stato possibile apprendere. L'incidente si è verificato proprio alle prime curve della strada che sale verso l'altopiano. Non pare siano stati coinvolti altri mezzi, anzi all'origine dello schianto. Vi sarebbe un guasto meccanico alla moto, sul posto, sanitari del suo M118, poi militari della compagnia di Tiene per i rilievi e per regolare il traffico particolarmente intenso di questo fine settimana di fine estate. Non ho chiuso occhio questa notte perché ero un carissimo collega e tuttora, a parte che sono in pensione, ma lo vedo tutti i giorni, confermo che Maurizio Bogni è un'istituzione qui a Belvedere. Lo sgomento di Antonio Dal Moro, ex assessore all'istruzione di Tezze, è quello di tutta la comunità di Belvedere, sconvolta dall'arresto e dalle parziali ammissioni dell'insegnante di musica della scuola media, ai domiciliari per violenza sessuale aggravata e atti sessuali su minori. Tace la dirigente Chiara Riello, che ha collaborato con i poliziotti della squadra mobile nel documentare le presunte molestie subite da alcuni studenti. Parlano invece i residenti della frazione, increduli e comunque grati con il fondatore del gruppo Dolce Consort, pluripremiato a livello internazionale. Posso dire solamente che è una persona brava, corretta e anche che molti ragazzi veramente si sentivano impegnati invece che stare in giro per le strade, così veramente non ci crederei, non ci credo. Ho avuto entrambi i figli che sono andati a scuola qui a Tezze sul Brenta e hanno frequentato anche i corsi di musica, mai avuto nessun problema, nessun sentore di niente. È scoppiato come una bomba a ciel sereno questa notizia e spero si risolva tutto ma è una cosa un po' delicata. Tra voi amministratori e colleghi mai nessun sospetto? No, direi di no, anche perché il dovere istituzionale sarebbe stato quello di segnalare, ma assolutamente no, assolutamente no. Carenza d'organico, età media troppo elevata, la polizia locale non può garantire la sicurezza della città e la denuncia che arriva dall'opposizione. Visita a sorpresa ieri al comando della Polizia Municipale di Contrassoccorso Soccorsetto da parte dei capigruppo d'opposizione, i consiglieri Rucco, Idea Vicenza, Bastianello, Lega Nord e Cattaneo, Forza Italia. Obiettivo capire quanto la sicurezza in città può essere garantita da un corpo sempre più in carenza d'organico. Erano 151 gli agenti dieci anni fa, sono appena 117 oggi, con un'età media che sfiora i 50 anni. Quello che noi vogliamo fare è insistere con l'amministrazione affinché venga data una priorità assoluta nell'associazione di vigili, che pare che intanto stia arrivando con due vigili nuovi, però a fronte di addirittura cinque pensionamenti e alcune mobilità, e quindi non è assolutamente sufficiente. Il centro-destra elenca tutte le criticità che ne derivano di conseguenza, a cominciare dalle pattuglie che sorvegliano la città. Come lotta al degrado c'è solo una pattuglia di due persone al giorno, noi vogliamo che le pattuglie diventino almeno due, se non addirittura tre. E poi le telecamere per la videosorveglianza. In città ce ne sono ben 58, ma 20 sono puntate sulla Basilica e troppo poche, quelle a presidio dei quartieri. E poi... La prevenzione viene fatta se qualcuno questa telecamera le guarda. Dalla nostra verifica abbiamo verificato che in diretta non c'è nessuno che guarda queste telecamere. Infine altre due richieste dell'opposizione. Ancora una volta il presidio fisso in Campomarzo e il ritorno dei vigili di quartiere nelle aree calde, San Lazzaro, Fornaci, San Pio X. La Digos ha acquisito immagini del sistema di videosorveglianza. Scritta tracciata con lo spray. La sigla è quella della squadra USAR del Veneto, Urban Search and Rescue. In quella scritta c'è tutto il dramma e spiega che i pompieri sono entrati fra le macerie con presenza di gas il 24 agosto. I numeri dicono che nell'ala sinistra e sotto la casa non c'erano vittime. Nella parte destra invece sono stati trovati due cadaveri. In questi giorni un gruppo di nove pompieri partiti da Vicenza e all'opera fra i borghi colpiti dal sisma. Sono sette centri storici, zone rosse presidete dall'esercito dove possono entrare solo i vigili del fuoco. Il loro compito è quello di recuperare fra le macerie oggetti che siano cari ai sopravvissuti del terremoto. Il braccialetto della prima comunione, la foto incorniciata di una famiglia felice fino a poco tempo fa e il libretto di risparmio aperto per il figlio che magari non c'è più. Le squadre che sono in azione in questi giorni stanno anche seguendo un programma stilato dal Ministero per i beni culturali e quindi entrano in chiese e musei per recuperare pezzi della storia dell'arte che devono essere salvati e messi in sicurezza. La popolazione è ancora provata dalla tragedia. Il grado di devastazione è impressionante anche per chi ha già operato in altri teatri simili. Al campo base del Marchigiano, che ospita anche i Vicentini, ci sono almeno 300 vigili del fuoco. Il turno dura una settimana, poi ne arriveranno altri. Ci sono due distributori di benzina in città, anzi le aree rimaste dopo lo smantellamento dei distributori che cercano una destinazione. Lungo Viale Cricoli e Strada Pasubio si trovano due aree recintate che, viste da fuori, sono in tutto e per tutto simili. Identico il loro passato, ospitavano impianti di distribuzione della benzina. Identico il loro presente, si presentano come una distesa d'asfalto inutilizzata. Per adesso, identico anche il loro futuro, una totale incognita. Entrambi ex Eni, prima ancora Agip, i due piazzali si trovano però in contesti totalmente diversi. Quello di Strada Pasubio è poche centinaia di metri a nord dell'albera, incastonato tra un ristorante e un'attività produttiva. Quello di Viale Cricoli è invece a fianco del contestatissimo Campo Nomadi e la preoccupazione sul suo destino è quindi diffusa. Come detto, per adesso tutto tace in comune sulla destinazione delle due aree. Ma va ricordato che quella di Cricoli è di proprietà comunale, mentre l'altra è proprietà privata. Dopo la dismissione e la conseguente bonifica, si doveva precedere al ripristino a verde, che ancora non è stato effettuato. Ha riaperto oggi al transito con una settimana di anticipo rispetto all'ordinanza la passarella pedonale di collegamento tra Via Sauro e Viale Giuriolo. La passarella era stata chiusa lo scorso lunedì per consentire un intervento di manutenzione della condotta affognaria ancorata alla struttura da parte di Acque Vicentine. Gli avvisi? Carta straccia. I volantini sul parabrezza buttati senza nemmeno leggerli. Articoli pubblicati su TV e giornali riguarderanno qualcun altro. È sconfortante il risultato della campagna di avviso che l'amministrazione sta svolgendo per arrivare ad una profonda pulizia delle strade che nei giorni scorsi ha portato ad un lavaggio di oltre 27 km di strada in tutta la città. I cittadini dovrebbero aver notato gli oltre 200 cartelli posizionati nei luoghi dovuti, dovrebbero aver ricevuto le oltre 6.000 lettere personalizzate e preso in mano uno dei 10.000 volantini che sono stati messi sui parabrezza. Una campagna voluta dopo che un'analoga iniziativa avviata all'inizio di agosto aveva messo in luce come almeno 950 automobilisti avessero ignorato l'invito a spostare l'auto malgrado il rischio di vedere mettere in azione i caro attrezzi e di dover pagare una sanzione da 150 euro. E invece no, rispetto alla prima volta, sono solo 6 le auto che sono state spostate, le altre sono rimaste tutte rigidamente al loro posto. Assistiamo a una situazione surreale, ha commentato l'assessore Antonio Marco Dalla Pozza. Per quanto il Comune cerchi di avvisare il pubblico che è necessario spostare quelle vetture, non si riesce a raggiungere il risultato voluto. Questo risponde anche a chi ci accusa di voler far cassa con le multe. Non le abbiamo fatte nel corso della prima campagna di pulizia, non le faremo forse nemmeno stavolta, anche se in poco tempo avremmo potuto incamerare qualcosa come 200.000 euro. Eppure sorgono inquietanti domande circa l'efficacia della comunicazione. L'unica altra spiegazione è che l'invito cada nel vuoto, perché chi parcheggia in quelle strade evidentemente non riesce a trovare una valida alternativa. Martedì prossimo, 6 settembre, si trarrà a Vicenza la giornata dell'orientamento rivolta ai docenti delle scuole medie e superiori. L'iniziativa è promossa da Confartigianato e Confindustria, dopo l'incoraggiante edizione dello scorso anno che aveva visto partecipare 120 insegnanti. Anche quest'anno saranno organizzate per i docenti delle visite all'interno delle imprese aderenti all'iniziativa per conoscere l'attuale organizzazione del lavoro e la loro esigenza in materia di formazione. La giornata sarà replicata venerdì 9 a Bassano del Grappo. Lo stadio comunale di Longara è ospitato oggi l'ottava edizione del Memorial Valerio Gildoni, torneo di calcio a 5 riservato alle forze di polizia, i vigili del fuoco e polizia locale. Per ricordare la figura del colonnello dei carabinieri ucciso a Bosco di Nanto il 17 luglio del 2009 da un 84enne che si era abbaricato in casa, che sparò un colpo di fucile alla testa del militare che cercava di ricondurlo alla ragione. 16 le formazioni protagoniste in campo e tra queste le compagini della procura e del tribunale di Vicenza, ma anche quella della compagnia carabinieri di Pavia, attualmente diretta dal capitano Gianluca Gagliotta, che all'epoca del luttuoso fatto ricopriva la carica di comandante del nucleo operativo radio mobile di Vicenza. Credo che la tristezza e la drammaticità di quanto abbiamo provato in quella giornata che rimane storia ovviamente viene ripercorsa al contrario, non so se vanto il titolo di essere tra coloro che dalla prima edizione sono frequentatori senza mancare a questa opportunità di ritrovarsi tra amici e nella grandezza dei sentimenti che ci uniscono. In positivo ricordiamo certamente la grandezza di una persona che oggi non è con noi, di un ufficiale dell'arma che sarebbe stato ben contento tra noi anche a giocare al campo, idealmente lo vogliamo e lo vediamo tra noi, almeno personalmente, ma sono convinto guardando lo sguardo degli altri, a partire dagli organizzatori dell'IPA che ringrazio, personalmente e a nome di tutti, anche di colleghi da Pavia o colleghi carabinieri che non vivono questo stretto ambito di Vicenza, ma sono uniti in questa giornata e in questo ricordo. Rieccoci in studio, Forza Nuova attacca uno strisciano all'esterno della sede della CGL, e il segretario Zanni dice vile atto intimidatorio, la Digos pronta a riferire alla procura. Nella notte uno striscione è comparso a bloccare l'ingresso della sede della CGL in via Vaccari, recita in inglese Refugees not welcome, tutto ai terremotati. Un comunicato firmato dalla segreteria provinciale di Forza Nuova ne rivendica la paternità, inserendolo in una campagna in alto da tempo che vede l'organizzazione di estrema destra a sostenere che l'accoglienza dei profughi è condotta in modo fallimentare, l'invito è a destinare ogni risorsa alle popolazioni colpite dal sisma. A nostro avviso si tratta di un vile messaggio intimidatorio, ribattuto in mattinata il segretario della CGL, Gian Paolo Zanni, un messaggio diretto contro un'organizzazione sindacale da sempre, in prima linea per i valori di pace, solidarietà, giustizia e accoglienza. I filmati dell'azione notturna sono già stati acquisiti dalla Digos della questione di Vicenza, che riferirà subito alla procura. Attendiamo di capire se CGL vorrà presentare una denuncia per minacce, ha spiegato il dirigente della Digos, Nevio Di Vincenzo, perché in quel caso sarà possibile aprire un fascicolo di indagine vero e proprio. Si apprende, peraltro, che il blitz notturno sarebbe stato compiuto a volto scoperto da persone che sono molto ben conosciute dagli uomini della questura. In caso di denuncia, quindi, la loro identificazione sarebbe pressoché immediata. Concerto ieri sera in Sala Stucchi, oggi sul Pasubio, riproposte canzoni che i soldati cantavano durante la permanenza in Trincea, durante la Grande Guerra. E' questa una delle canzoni che fa parte del patrimonio di 3.000 spartiti recuperati. Erano intonate dai soldati, e non solo da quelli dell'esercito italiano. Il canto rappresentava uno dei rari momenti di serenità per chi era costretto a trascorrere mesi nelle trincee della Grande Guerra. Alcune di queste canzoni popolari sono state proposte ieri in Sala Stucchi a Palazzo Trissino, una sorta di anteprima del concerto che è andato in scena oggi sul Pasubio in prossimità dei due denti, italiano e austriaco, in occasione della commemorazione dei caduti del 1916. Gli eventi musicali sono il frutto della collaborazione tra la Fondazione 3 Novembre 1918 e il Centro Studi Musica e Grande Guerra di Reggio Emilia, con il contributo della Cassa Rurale di Brendola. Sara e Andrea Sistici e il violinista Carlo Perrucchetti hanno proposto una serie di canzoni che i soldati condivisero durante la vita in Trincea. In particolare gli alpini impararono i canti delle terre di provenienza di ciascuno e secondo uno schema proprio della cultura popolare adattarono parole e strofe alle esperienze che stavano vivendo. Il grande lavoro di ricerca ha permesso di recuperare, come detto, già 3.000 spartiti. I testi di molte di queste canzoni vennero suggeriti proprio dalle vicende della guerra. Oggi resteranno per sempre nel patrimonio del Museo sul Colle dell'Ossario. Ogni giorno Acque Vicentine si prende cura dell'acqua, garantendone la qualità e la sicurezza quando la porta nelle case dei circa 300.000 vicentini serviti e quando la restituisce all'ambiente dopo averla depurata. L'acqua viene prelevata da 36 pozzi che attingono da falde profonde oltre 100 metri e questo assicura una notevole fascia di protezione da eventuali inquinamenti. In che modo Acque Vicentine garantisce la qualità della nostra acqua? Con un numero di controlli importanti, oltre 1.600 controlli in un anno, con un importante e continuo vigilare sulla rete, con importanti e significativi investimenti per migliorare e ottimizzare, in modo da garantire qualità organolettiche, chimiche e microbiologiche di eccellenza, dotate inoltre di un così alto controllo, come dicevo prima, che permette di mettere in rete un'acqua non clorata per due terzi dei nostri cittadini, caso più unico che raro nel panorama della distribuzione dell'acqua pubblica in Italia. L'acqua potabile però è poca e la sua quantità continua a ridursi a causa di tanti fattori. Per questo motivo Acque Vicentine suggerisce alcuni semplici accorgimenti che adottati ogni giorno permettono di non sprecarla, come ad esempio scegliere la doccia al posto del bagno nella vasca, chiudere il rubinetto mentre ci si insapona, ci si spazzola i denti o ci si rade, usare la lavatrice e la lavastoviglia a pieno carico, riparare rubinetti o water che gocciolano, controllare periodicamente il contatore. L'acqua insomma è un patrimonio prezioso e sul sito www.acquevicentine.it si potranno scoprirne le qualità. Nuovi corsi Venerdì 9 settembre Festa del buon rientro In centro storico attiene Musica live e shopping A partire dalle ore 20 Festa del buon rientro A Montecchio Precalcino il nuovo anno scolastico inizia in sicurezza, terminati lavori di adeguamento antisismico anche per il palazzetto. Parte dall'adeguamento antisismico delle scuole del Palasporto il piano di interventi predisposto dall'amministrazione comunale di Montecchio Precalcino. I cantieri che saranno chiusi in tempo per la riapertura del nuovo anno scolastico riguardano anche l'efficientamento energetico che porterà al Comune un risparmio di quasi il 50% dei costi delle bollette. Nella scuola media Giacomo Leopardi l'adeguamento antisismico ha raggiunto il livello massimo previsto dalla normativa. Con un investimento da 350 mila euro il Comune ha predisposto anche alla sostituzione degli infissi interni. L'adeguamento antincendio, nuove scale esterne di acciaio, la sostituzione di mobiletti e le tinteggiature. 430 mila euro sono invece i fondi investiti per la sicurezza del Palasporto con l'adeguamento antisismico, la sostituzione dell'impianto di illuminazione e le tinteggiature. L'adeguamento antisismico che non è un miglioramento ma proprio un adeguamento ai massimi livelli di quelli previsti dalla normativa. Quanto a preoccupazione c'è per gli ultimi fatti che sono avvenuti da parte di un'amministrazione, di un sindaco in questo senso? Beh moltissimi, diciamo che è una preoccupazione grandissima specialmente perché tra il palazzetto dello sport e la scuola sono centinaia i ragazzi che li frequentano per cui la sicurezza sicuramente è prima di tutto. Comune di Sarcedo cerca volontari, maggiorenni, nonni o genitori per il servizio di piedibus. L'iniziativa sarà illustrata durante un incontro in programma lunedì 12 in municipio. La disponibilità richiesta per il servizio è di circa 30 minuti al giorno a partire dalle 7 e 25 del mattino. Ha mollato la spazzatura in strada a Montecchio ma non si è ricordato che fra fondi di caffè e bucce di banana aveva messo anche alcuni documenti con il suo indirizzo di casa. È in questo modo che la polizia locale dei Castelli è riuscita a risalire all'uomo di Verona che probabilmente in transito per Montecchio non si è fatto scrupoli di lasciare i sacchetti in strada. È stato raggiunto e sanzionato con una multa da 206 euro. Per i 500 bambini delle tre frazioni di Trisino, Selva, Lovara, San Benedetto, il nuovo anno scolastico sarà l'insegna della sicurezza. La scuola elementare Giacomo Zanella in piazza Mazzini è un edificio che risale agli anni 60 e presenta molteplici criticità ma il comune con uno sforzo non indifferente è riuscito dal bilancio a ricavare investimenti per lavori strutturali decisivi complessivamente 1.200.000 euro. Questo è l'ultimo tassello di un percorso iniziato ancora tra quattro anni fa con un miglioramento sismico della nostra scuola che la vede sicura fino al raggiungimento dell'80% delle norme antisismiche quindi è un buon risultato. Innanzitutto la stabilità a fronte di rischi sismici e poi la messa in sicurezza dei solai con 190 metri quadri di nuovo controsoffitto antisfondamento oltre a un chilometro di pali di palificazione infissi nelle fondamenta 20 aule per i quattro corsi dei cinque anni si comincia il 12 settembre con una nuova preside. È un avvio di anno scolastico un po' diverso nel senso che sta entrando a pieno regime la riforma quindi quest'estate per la prima volta noi dirigenti abbiamo chiamato con chiamata diretta gli insegnanti non sono arrivati tutti, questo succede praticamente ogni anno. Vicenza domani sera in campo a Ferrara Biancorossi saranno supportati almeno da 700 tifosi potrebbero essere mille Zaccardo e Esposito in campo dal primo minuto mister Lerda dice di essere contento del calciomercato adesso siamo pronti. Sono molto soddisfatto della spesa fatta al calciomercato e dovrà la squadra pronta a lottare per centrare l'obiettivo salvezza così mister Franco Lerda all'inizio della conferenza stampa di Erna alla vigilia della partita di domani a Ferrara dove nell'11 iniziale schiererà dal primo minuto Cristian Zaccardo e Andrea Esposito Sono due giocatori di primo livello sono due giocatori esperti sono due giocatori che sono allenati sono arrivati preparati sufficientemente bene e quindi saranno in campo sugli spalti della Nazza dove nel 90 i Biancorossi vincere lo spareggio contro il Prato per non retrocedere in C2 sono attesi oltre 700 tifosi Biancorossi noi dobbiamo giocare per loro soprattutto, anche o soprattutto perché devono essere il nostro valore aggiunto sappiamo della passione dell'ambiente che c'è qua a Vicenza ritorna una partita di cartello perché Spal, la Nervossa Vicenza è sempre stata una partita di cartello vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi vogliamo dare una gioia a noi stessi perché stiamo lavorando bene stiamo crescendo In tema di formazione il tecnico Biancorosso ha confermato la disponibilità di Cernigoi in seconda battuta di Di Piazza per la sostituzione di Rajcevic impegnato con la nazionale montenegrina quello che ho detto ai ragazzi dobbiamo iniziare da domani perché sono finiti gli alibi sono finiti i discorsi di preparazione sono finiti i discorsi tutti ogni squadra in questo periodo non è collaudata al 100% però abbiamo chiaramente quello che è il nostro obiettivo Pareggio del Bassano questo pomeriggio nel difficile campo del Teramo 1-1 finale con partenza a razzo dei giallorossi in vantaggio dopo due minuti grazie alla rete di Maestrel Virtussini vicini al raddoppio poi raggiunti al quarto d'ora del primo tempo col gol del bomber Sansovini che ha sfruttato un liscio di Crialese Bassano con quattro punti in classifica dopo due giornate Prima giornata di gare del Gran Premio d'Italia del Mondiale di Trial maschile e femminile a dare via alla gara questa mattina ai sindaci di Chiampo Macilotti San Pietro Mussolino Tasso il campionato del mondo di Trial ritorna a fare tappa in Veneto dopo ben 29 anni di assenza ed è la Val Chiampo a ospitarlo organizzazione affidata alla federazione motociclismo al motoclub Trial Val Chiampo un weekend importante perché tutti i titoli iridati sono ancora da segnale con la sola eccezione di quello costruttori già assegnato alla Montesa sono ben 500 i volontari che in questi giorni stanno lavorando per la buona riuscita della manifestazione che come vedete in queste immagini è particolarmente spettacolare ed è davvero tutto per oggi grazie per averci ascoltati arrivederci parliamo di convenienza con deposito titoli BPV ai tre anni di bollo pagato senza limiti di importo sui titoli trasferiti Banca Popolare di Vicenza per i tuoi che